Musica Ho visto Zazza, esatto, si si Zazza, Zazza è il regalo di Natale Non giocherai in coppia con Brunore, l'abbiamo già detto Rimarremo sempre su questo modulo, su questa idea, su questo 4-3-3 Però Zazza di sicuro, soprattutto all'inizio perché vogliamo appunto provarlo, gli daremo spazio Se ci convincerà sostituirà Brunori, altrimenti no Ma questo non toglierà totalmente spazio a Brunori, toglierà spazio a Brunori dal primo minuto Però con i 5 cambi Brunori sicuramente poi lo convolgeremo nel corso della partita In un reparto che forse non avevamo proprio bisogno di prendere un giocatore Perché ho detto, questa squadra ha urgentemente bisogno di rinforzare le fasce in difesa E forse le fasce in generale Quindi appunto anche pensare all'invertita nuova, alla destra nuova A un terzino, sinistro e destro Budget a disposizione non è tanto Ragione per la quale potremmo appunto già da oggi finalmente iniziare a coinvolgere il City E quindi vedere se salta fuori qualche occasione importante Però non adesso ma appena inizia il mercato Così magari si aggiorna anche alla lista dei prestiti Però vedi, mi ha ascoltato Questo è stato... guarda, mi ha ascoltato Mirri Mi ha ascoltato perché chiedevo proprio qualche soldino in più Che non arriva Cioè nel senso sì, pochissimo Però possiamo farlo A questo punto non sarà più di fondamentale importanza Concludere il campionato nella parte alta della classifica Ma se vogliamo più soldi Dobbiamo per forza di cose finire tra le prime quattro posizioni Che secondo me ad ora insomma assolutamente fattibile Possiamo accettare questo cambio Molte di questi possono anche essere presi per davvero Perché tralasciando invece coloro che sono extra way Come appunto i giocatori del Regno Unito Ma abbiamo Gomez Devo capire se Sarmiento ha una doppia nazionalità Non ce l'ha quindi ecco Sarmiento no Però ad esempio si può prendere Oscar Bob Si può prendere Borges Van Sass Alcuni di questi si possono provare a chiedere in prestito Fulon è un nome che mi piace veramente tanto Tra l'altro è in scadenza Fulon Fulon è veramente un bel nome Fulon secondo me potrebbe essere veramente un bel colpo Perché se dovesse rimanere in scadenza e non rinnovare Quasi quasi lo prendiamo poi la prossima stagione Mi dare un occhio intanto sulla destra Poi pensiamo nuovamente a Goulam Elabdelaui Che io a proposito di pronunce sarebbe veramente un disastro Prenderlo In Portarlo in squadra Però Anche lui non è un brutto giocatore Direttamente dal Galatasaray Una vita all'Olimpiakos Ex Settore giovanile Manchester City Quando ancora probabilmente il City non era preso dagli Sheikhi Se ha certe cifre E per sei mesi accette io lo prendo Questo è un giocatore che porta esperienza Musacchio anche qui chiede due anni Noi però possiamo proprio magari mettere il lucchetto Abbassare Fare solamente sei mesi E magari aggiungere la possibilità poi di rinnovo Quindi siamo sui quasi 400.000 Per Musacchio Per metà stagione Elia intanto ci sono offerte Perché lui in scadenza anche con la Juventus Ecco Elia magari potremmo provare a contattarlo A prendere la zero definitivamente E sarebbe anche disposto ad accettare Di rimanere da noi A me Elia è piaciuto Elia è forse uno dei pochi Che mi ha proprio pienamente convinto Sin da subito Allora Marconi va Marconi va poi ci lascerà a parametro zero Musacchio intanto arriva Con l'arrivo di Musacchio Un piccolo salto di qualità lo fa E non sto scherzando Porta sicuramente tantissime esperienze Secondo me è un giocatore del genere in B Può fare davvero molto molto bene Sei mesi Abbiamo però una clausola Che qualora lui dovesse giocare 15 partite Ci sarebbe appunto Il rinnovo poi di un altro Di un altro anno Vediamo appunto Dipenderà dalle prestazioni Che offrirà in campo E lì andrà Algeno a questo punto Avrebbe firmato volentieri per noi Ma alla fine andrà Algeno a fine stagione No No contratto futuro Eh no Comunque chiedeva molto meno Algena Prenderà di meno Ciborra Ciborra È un giocatore Che nella realtà è stato molto sfortunato Carriera un po' particolare la sua Se ne parlava benissimo Considerato un talento eccezionale Non a caso appunto poi di mezzo Ci si è messa di mezzo l'Atalanta Che ha occhio Per certi grandi giocatori Per certi grandi talenti Non è diventato un grande giocatore Perché poi appunto Infortuni è stato sfortunato Ha avuto poi di recente Un infortunio pesante Con il Genoa Qui nel gioco Semplicemente non Ma in realtà viene utilizzato Viene utilizzato Stupisce anche Cioè forse probabilmente Il giocatore Vuole andarsene Non lo so Perché Le ha giocate tutte 16 presenze Prestazioni abbastanza Normali Però in prestito E noi a questo punto Ci proviamo Perché per me Un giocatore del genere In quella zona di campo Farebbe Molto molto bene Complimenti comunque Musacchio Appena arrivato Si è ambientato benissimo E il clima No a Palermo Così ha preso un colpo d'aria E lo mandiamo a casa Salta probabilmente la prima Anzi togliamo il probabilmente Salterà sicuramente la prima Ciborra io l'ho preso Di corsa Perché Ripeto Mi ha fatto anche strano Il fatto che Sia stato messo in lista prestiti Un giocatore che Era titolare Ma su Dal Genoa Succedono queste cose Sappiamo che la società pazza A prescindere da 777 Oppure la vecchia La vecchia gestione Quindi ufficiale Ciborra Sinceramente pensavo qualcosa di più Dal punto di vista tecnico Però dal punto di vista fisico Secondo me Un passo in avanti Lo facciamo Dal punto di vista mentale Quel concentrazione 10 Decisione 10 Non è eccezionale Meno male che abbiamo Anche appunto Non un obbligo di riscatto Ma un semplice diritto Vediamo adesso Cosa farà Io di sicuro ve lo dico Sarà comunque un giocatore Che occuperà Sempre Il ruolo Di terzino Fluidificante Nel senso che comunque Sarà considerato un titolare Poi Se le prestazioni Dovessero convincere Pazienza Tanto comunque Non ci stiamo smenando tanto O magari Hanno provato a mandarlo In lista trasferimenti Non lo voleva nessuno La mandate in lista prestito Non lo so Però Tifosi Sembrano essere felici Noi lo alleniamo Nel ruolo di terzino Fluidificante A supporto Il focus aggiuntivo Quello solito Sui passaggi Che ormai stiamo Cercando di far Imparare a tutti Di far migliorare Più che imparare A tutti Recappone di mercato Recappone di mercato Allora Chi è andato via? Marconi Titolare O comunque Che facevano parte Della prima squadra Marconi e Soleri Marconi e Soleri Via Marconi un prestito Con Poi un Nessun diritto di riscatto Ma comunque Andrà via A zero Mentre Soleri Invece È lui Che avrà un costo futuro Opzionale Di 35.000 euro Ma Vedremo appunto Se il Vicenza Deciderà di spenderli Oppure no In entrata Zazza Musacchio Ciborra Portiamo tutti i giocatori Che hanno comunque Giocato in A Questo poco ma sicuro Più o meno presenze Ma comunque Tutti le hanno fatte Quindi Vediamo Vediamo ragazzi Cosa Sapranno offrire Però Musacchio appunto Non giocherà questa partita Perché è raffreddato Mentre invece Titolare Zazza Titolare Ciborra Pierozzi Intanto Pensiamo a Palermo Venezia Di Mariano Attenzione Ce l'ha sul sinistro Vido 1-0 Vantaggio Subito Palermo Al minuto 7 Ottimo inizio Da parte di Rosa Nero Bravo Di Mariano Ci ha comunque provato Poi è stato fortunato In questo caso Vedo Stanno anche dai feedback Che mi state dando Sulle vostre carriere Con questa squadra Se sarà Speriamo Serie A Prossima stagione Non aspettiamoci Tanti soldi E Aspettiamoci difficoltà Come quelle che abbiamo vissuto Con il West Bromwich Perché dico questo? Perché abbiamo poi Tanti giocatori Che andranno via E che non vogliamo tenere Intanto attenzione Perché le varie lezione Del Venezia Con qui Zanz Qua da rivedere Perché mi sa Che abbiamo perso palla Poi loro verticalmente Così ci hanno Spaccato in due La difesa Qui Busio Serve Cernigoi E poi L'inserimento Ancora una volta Vincente Va segnato anche L'andata Qui Zanz Trova il gol Anche il ritorno Qua comunque La partita È un continuo Di Di azioni Che ci mostra il gioco Di Mariano Dietro per Bettella Minuto 12 Già due gol Stulaz Bettella Segre Pierozzi Dietro per Bettella Poi Nedel Cearu Schiacciato il Venezia Poco pressing Ciborra Eccolo L'ex Atalanta Genoa Avanza Attenzione Poi L'appoggio per Vido Corrisionalmente Per Segre Deviazione Corner Intanto Infortunio Per Luca Vido E a questo punto Dentro Dentro Floriano Dai Borra Si fa così Contrastare da Zampano Poi Di nuovo il Terzino tedesco Bello lo spunto Questo per Floriano Non proprio precisissimo Perché Arriva il primo Ceppitelli Poi è lontana Cerishev Arriva prima Bettella Stulaz In verticale Per Zazza Buon controllo Zazza L'appoggio Per Segre Abbiamo rischiato un po' Zazza lì ha avuto paura Zazza lì però Lo Zazza di una volta Sarebbe girato Avrebbe calciato una mina Fortissima col sinistro Sotto l'incrocio Oddio Sotto l'incrocio Magari no Però avrebbe fatto comunque Un tiro Lì poteva tranquillamente Calciare Però è stato bravo Perché lui Sappiamo che è un Sinistro Un mancino Il pallone L'aveva controllato Gestito bene col destro E non si è fidato Di calciare col piede debole È andato su Segre 2-1 Palermo Poi Saric Floriano Vediamo se si appoggia Ciborra oppure no Arriva Il pallone Per Di Mariano Può calciare 3-1 Arriva anche l'assist Nella prima partita Per Ciborra Palermo 3 Venezia 1 Attenzione però Ciborra Perché è un infortunio Linguine E dentro Marco Sala Qua si è infortunata La fascia sinistra Tra l'invertita E il terzino Poi Andersen Nuovamente Qui Zanz 3-2 Qui Zanz Contro il Palermo Questa è la partita Voto a Zazza 7-3 Ottima la prima Io direi ottima La prima per tutti Tranne per Il signor Musacchio Che è lì Al calduccio Sotto le coperte Tutto raffreddato Che si sta guardando Su Sky O su Dazon Palermo-Venezia Attenzione Perché Qui Zanz Palla sul secondo palo Lontana Bettella Poi qui Bettella Deve gestire bene Non fare cavolate Ecco la cavolata Che l'ha fatta Questo è stato Un grandissimo errore Da parte di Bettella Grandissimo errore Da parte di Pigliacelli E Qui Zanz Contro il Palermo Fa tripletta Probabilmente Avremmo dovuto Addormentare un po' La partita sul finale Male ragazzi Male perché ci stiamo Cioè è stato Incredibile come Siamo riusciti A farci rimontare Cioè non me lo so Nemmeno spiegare Questa rimonta Succedono cose In questo save Con Blessing Che boh Io Assurdo Assurdo Cioè ma avete litigato Non avete litigato Cosa succede con Ciborra Due connazionali Si sono un pochino così Ha guardato La partita di Ciborra L'ha guardata L'ha guardata Boh Il bello che abbiamo pure Un diritto di riscatto Per Ciborra Maresca Mix Eccolo qua Praticamente le istruzioni Sono identiche Di squadra Cambia solamente Il Il lavoro Dei Dei singoli Qui ad esempio Abbiamo un Corri più rischi Un Tirare di meno Ma il Tirare di meno Lo abbiamo aggiunto Praticamente a tutti Quindi diciamo che È una Leggera modifica Non è una modifica Pesantissima Classifica Attenzione perché Il Genua si è fermato Siamo A più 3 Dal Pisa Potremmo essere a più 6 Ma soprattutto potremmo superare il Genua Perché ha perso col Frosinone E pareggiato con l'Ascoli Io però me la sto gufando troppo Perché sto continuando a dire Se sarà Se sarà Se sarà Magari non sarà niente Anche perché hai visto anche le partite Poi come vanno Cosa possono succedere Quante cose possono succedere Nel giro di pochi minuti Vedi appunto Col Venezia Questa Serie B A prescindere Il prossimo anno Molti Giocatori forti Rimarranno in questo campionato Perché non è che ne possono salire tante Per esempio Genoa Palermo Pisa Salgono Così Stupidamente Genoa Palermo Parma Rimane la spalla Di Salvatore Esposito Rimane il Cagliari Con Zito Rimane il Venezia Con Quisans Cioè E posso andare avanti Per un bel po' Sono veramente Tanti i talenti La prima quindi Di Musacchio Con la variante Con la variante Con una versione Diciamo Un attimino più approfondita Del modulo Di Maresca Nel senso che Come ho anche spiegato Nel corso della live Ho aggiunto Praticamente Per quasi tutti i ruoli Il tira di meno E In alcuni ruoli Anche messo Il contrasti più duri Per cercare Di esortare I giocatori A tentare Comunque Di Andare giù Con delle scivolate Che Speriamo Insomma Qui Sta molto anche poi Nei valori Nelle statistiche Dei giocatori Perché alcuni interventi Possono comunque Compromettere il risultato Provocando poi Cartellini Gialli Ma In alcune occasioni Anche rossi Però diciamo Che il tira di meno L'abbiamo comunque Aggiunto Per evitare Poi conclusioni Da zone Che magari Hanno un basso valore A livello di xg Che non portano Pericolosità Alla Difesa avversaria E quindi Per rimanere sempre Diciamo in tema Col nostro Stile di gioco Che si basa Principalmente Sul possesso Abbiamo però visto Che nel corso Di queste partite Non è solamente Un possesso serile Perché sono aumentati I gol Sono aumentate le occasioni Quindi Vediamo ragazzi Vediamo cosa Riescono a fare Il rosa nero Contro il Brescia Trasferta La prima dell'episodio Mettiamo Ciborra Al posto di Devetak E in campo così Vede di Mariano Zazza però Non Non prende Non va avanti Questa profondità La offre Segre Che nello spazio Si è inserito molto bene Mette in difficoltà Le portiere del Brescia Prima grande occasione Per il Palermo Corner Brescia Galazzi Esce Pigliacelli Bertagnoli Il volo Mamma mia Mamma mia Che rischio Fermato Alejo Poi Si appoggia a Karacic Quindi ci stana Adesso il Brescia Che attacca Però il Palermo Chiude bene Gli spazi Allora Lezzerini Si va da Dorni Pressato da Segre Senza commettere fallo Segre 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 1-0 Vantaggio Palermo Minuto 30 Ancora Jacopino Segre Stulaz Di Mariano Zazza Dietro per Ciborra Calcia Ma questo è un fenomeno Ciborra 2-0 Super Ciborra Assiste nella prima partita Gol Alla seconda presenza Con la maglia del Palermo Chiaro un messaggio Al vecchio mister Dicendo Perché Mi ha lasciato andare via Con Così tanta facilità Un messaggio anche Al nuovo mister Un po' Alla Florenzi Riscattami Paolo Ok Riscattami mister Stulaz Va da solo Perché non c'è La soluzione Da parte di Ciborra Ecco intanto lo spunto Per Floriano Floriano Sono tre Ma qui secondo me La posizione Non è tanto regolare E invece io Devo fare un altro mestiere Non devo così Inventarmi guardaline Perché la posizione Di Floriano Invece è regolarissima E il Palermo Ne fa addirittura tre Sul campo del Brescia Si chiude Un'ottima partita La cosa che mi stupisce È quel basso valore Di XG Cioè in realtà Uno di XG Tre gol Fa strano Con certo effetto Però nella gestione totale Della partita Siamo stati Direi molto molto bravi Intanto questo è il secondo Infortunio pesante Per Jacopo Segre Perché Andando nella storia Infortuni Abbiamo appunto avuto La rottura delle costole In occasione Della partita Contro Lascoli Mentre invece In occasione Con la partita Col Brescia Distorsione Legamenti Della caviglia Fuori per Un mese Guardando l'andamento Perdiamo il miglior giocatore Perché ha fatto tre gol Nelle ultime tre partite Perché nelle ultime quattro partite Oltre ad aver fatto tre gol Ha fatto anche un assist Perché comunque Considerando Le ultime dieci partite È andato a segno Cinque volte è andato a segno E due assist La davanti È un reparto Che sta facendo fatica Che crea poco Che segna poco Però magari sono tutte Sensazioni nostre In realtà invece Ci stiamo O meglio Non sono sensazioni Perché abbiamo delle statistiche Dei dati Che ci segnalano certe cose Ma magari non è così grave Rispetto poi Agli altri team In In campionato Di sicuro Il nostro XG medio Il nostro Diciamo XG A partita È più alto È più alto Di 0,45 Rispetto alla media Della serie B I gol fatti Anche Passaggio Vabbè sappiamo che comunque Siamo nettamente La squadra migliore Perché siamo anche quella Che ne fa Molti di più L'unica cosa Nella quale siamo indietro Mi sa Sono i cross riusciti No ma anche qui di poco Li superiamo No in realtà Siamo messi veramente bene Cioè pensavamo noi Di creare poco Di segnare poco Di tirare poco Siamo tra le migliori squadre Del campionato Tre minuti di recupero Vediamo un po' Paregino 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 Non perdiamo Però questa partita È come Se avessimo portato a casa Zero punti Perché proprio Cioè migliorati Sicuramente nel secondo tempo Abbiamo poi Creato qualcosina di più Male Male perché Il Genoa Supera nuovamente Il Palermo Però bene Considerando la classifica Perché comunque Siamo a più sette Dal Pisa Attenzione però Alla Spal Perché potrebbe essere Assolutamente Meno quattro punti Quindi attenzione Di nuovo alla Spal Che torna a essere pericolosa Niente In realtà sono contento Perché comunque Il fatto che noi Abbiamo perso solamente due partite Parma Ternana E basta Cioè per me È ottimo Però Sono questi pareggi Sono queste Prestazioni Purtroppo altalenanti Che Che mi preoccupano Poi Arrivano sempre punti Va benissimo Però noi passiamo Da partite in cui Creiamo tantissimo Magari riusciamo anche a fare In questo caso Adesso Siamo stati anche Ben abituati A vedere anche più di un gol A poi partite Facciamo poco E non ci facciamo vedere Poi per tutti O quasi 90 minuti E qua purtroppo È un grosso peccato Qui perdiamo full on Perdiamo full on Peccato ragazzi Poi vabbè Peccato Ci saranno Mille occasioni simili full on Però Adesso Un po' di dispiacere Lo provo Perché Full on Era in scadenza E avessimo avuto Qualche soldino in più Si poteva pensare Proprio di comprarlo subito E tenerlo E invece Niente Urtan nel ruolo di rifinitore Rifinitore io quest'anno su FM Ma in anni di FM Non sono mai riuscito A soltarlo bene Mi piacerebbe un giorno Trovare un modulo Da utilizzare per tante partite Con il rifinitore Ma è un ruolo che forse Si è anche Secondo me un po' perso Cioè anche proprio nel Nel calcio vero Poi da noi in Italia Figurati Con Ormai Quasi nessuna squadra Che utilizza il Trequartista Bettelli intanto allontana Bravo Ciborra Gomez Ancora Palermo Con Musacchio Per Pierozzi Pisa schiacciato Allora andiamo Dalla mezzala Saric Che si appoggia lì A Zazza di testa Non trova il gol Con calma Il Palermo da dietro Con il nostro Pigliacelli Va a rinvio lungo A cercare Zazza Bravo Zazza di testa Si appoggia Saric Elia Ancora lo scambio Con la mezzala Saric Niente Niente Non si riesce a segnare Calabresi Vediamo se Zazza Gli mette pressione Si lo fa Calabresi Infatti è stato in mente Allora Zazza 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 Non ci credevo mai Non ci credevo mai E invece Zazza La mette 1 a 0 Brunora è al posto di Zazza E però Ripeto Io lo so ragazzi So benissimo Che comunque Se forzassi Il giocare Palla negli spazi Tanti problemi Si andrebbero a risolverlo In 3 2 1 Perché comunque Questo gioco Chiama Lo chiama Secondo me Lo chiama Intanto attenzione Perché proprio Nello spazio Si va a servire Brunori 2 a 0 Si è sbagliato il Palermo Annullato il gol di Brunori A me sembrava regolare Invece Invece no Di poco Bravo Calabresi Complimenti Allora Ciborra Mariano Novo Ciborra Sturaz Damiani Di Mariano Bella questo lancio Per Brunori Che questa volta non sbaglia Questa volta soprattutto La posizione è regolare Palermo 2 Pizzazza 0 Chiuso 3 punti Portate a casa Che fanno comodo Che fanno comodo Perché la classifica Fino a poco fa Ci aveva mostrato Un Genoa Che stava perdendo In casa Contro la regina In casa della regina Quindi potrebbe essere Un bel più 3 Se battiamo il Frosinone Possiamo allungare ulteriormente Sulla quarta Pareggio Pareggio Vittoria Pareggio Vittoria Le ultime 5 partite Del Palermo Affrontiamo il Frosinone Che è Quarto in classifica Con un andamento Direi abbastanza simile Squadronata da Grosso Che fa bene Anche qui su Football Manager Classifica Mi corrego Siamo a più 2 dal Genoa Non dal Palermo Siamo ai ritmi Intanto Direi di Aumentare Semplicemente I ritmi E di Così Ritornare in campo Cosa positiva Però ragazzi Che almeno per ora Sto sentenziando Fortissimo Difesa Palermo Perfetta Cioè Ce la stiamo cavando bene Siamo tornati un po' Ad avere lo stesso problema Di inizio campionato Che là davanti Si fa fatica a creare Però dietro Tanta roba Elia Avanza Da solo Poi alla fine dice Non c'è spazio Andiamo da Pierozzi Spazio poi L'occupa Molto bene Zazza Saric Niente da fare 7 minuti Pioventoli recupero 0-0 ancora Tra Palermo Frosinone Partita un pochino Così bloccata Le occasioni ci sono state Ma il gioco non ce le ha mostrate 3 minuti di recupero Finisce qui Al Renzo Barbera Poca roba ragazzi Poca roba Sono già un po' di partite Dove non stiamo vedendo Un bel Palermo Ripeto Ordinatissimi dietro Perfetti La davanti però È una squadra che ha bisogno Di Di fare qualcosa di più No questo no Sulla forzatura Riguardo i cross no Ma sicuramente Proviamo a indirizzare Di più certi palloni Nella zona occupata Dal nostro centro avanti Potremmo provare A questo punto Una sorta di fulcro Se proprio Che possa tenere E poi magari anche andare Lui stesso alla conclusione Se no anche l'uomo d'aria Anche 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 Sì Un uomo d'aria Un fulcro Andrei con uno dei due Andiamo ragazzi Con zazza Uomo d'aria Che poi In realtà Non è che Se io metto Uomo d'aria Allora A prescindere Lo andiamo a coinvolgere Di più Però Di sicuro Lui Cercherà di non svariare Troppo Di essere comunque Una presenza lì Costante Nell'andare anche A dar fastidio Alla difesa dell'Ascoli Perché Sarà anche importante Il lavoro che farà Sarà più diciamo Una tendenza Quella a giocare A stare sempre magari Sul filo del fuorigioco A essere lì In linea con i difensori Poi Poi Sul discorso legato Al coinvolgimento Lì poi vedremo anche Se cambiare anche Qualche altra impostazione A qualche altro ruolo Ciborra Bettella Però Semplicemente Diciamo Notiamo un Palermo Che Tira poco Con il proprio attaccante Pierozzi Saric Elia Elia Cerca e trova Zazza E va bene Il cross lì Zona centrale Zazza Di testa Punisce il portiere Ascoli E 1-0 Del Cearu Attenzione perché sale Adesso L'Ascoli Vido Infatti arrivano Arrivano loro Che ci rubano palla Qui Male Attenzione qui Gondo Arriva il gol Meritatissimo 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 Ce ne siamo accorti Che si chiudevano Sì ma pian pianino Comunque ci spingevano Ad arretrare sempre di più E poi ci hanno costretto All'errore Questo può essere un rischio Per lo stile di gioco Che adottiamo Perché è un gioco Che si va a fossilizzare Molto sul possesso palla Può provocare Anche questo Noi A questo punto Proviamo Anche se ho paura Ad alzare ulteriormente i ritmi Bravo Ciborra Ruba palla Ripartenza quindi Da parte del Palermo Ajampong Ciborra Attenzione Con l'arbitro Potrebbe essere rosso Ragazzi Io non l'ho capita Questa sinceramente Ma Dopo munizione per Ciborra Palermo in 10 Va bene Va bene Per come si era messa la partita È un risultato che Lo posso accettare Quello che non accetto Diciamo è come abbiamo preso gol Però In effetti Forse Davvero Qualche ruolo Va un attimino Rivisto Quindi Difensore che imposta Ok Ma la classifica Alla fine Come è andata a finire Il Genoa deve ancora giocare Il Genoa può superarci In classifica Noi abbiamo 7 punti di stacco Dal terzo posto Il fatto di non perdere Comunque mi rende felice Il fatto anche Di non meritare Di perdere Questa è la cosa Che più mi rende felice Probabilmente Cioè il fatto che Comunque abbiamo trovato Un modulo Che ci fa stare Tranquilli dietro Perché io Credo che A parte Aveva le sconfitte Che abbiamo subito E ci stavano Però a parte quelle In tutte le altre partite Non c'è mai stata Una partita dove Siamo stati Fortunati Cioè sono stati Secondo me Da veramente poche Per me Sono tutte partite dove La difesa Ha fatto veramente Un gran lavoro Con l'ascoli Però ad esempio Mi ha meritato Di subire gol Perché Lì proprio Il nostro stile Di gioco È stato Totalmente distrutto Dalla pressione Degli avversari E con questa modifica Con L'ala invertita Direi che Possiamo chiudere qui Possiamo chiudere qui Sì Ciao!